Ciao, un saluto da Andrea Rocco. Oggi ti porto nel quartiere Arbostella, qui a Salerno. Per farti scoprire una novità, il venta ti darà subito tre vantaggi. Ti farà risparmiare dal primo giorno sulle bollette di luce e riscaldamento. Ti farà riposare in pace grazie all'eseramento acustico di ultima generazione. E soprattutto, di farti sentire sicuro in un edificio ad elevata resistenza sismica. Dai un'occhiata! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!